Va bene direi che possiamo iniziare Buongiorno a tutti Oggi è la penultima volta insieme in questo corso Poi ovviamente ci vedremo agli esami Quindi oggi affrontiamo l'ultimo argomento, l'ultimo blocco Di cui avevamo parlato all'inizio che è la ricorsione in python Poi lo vediamo in dettaglio Volevo solo ricordarvi che la prossima volta, quindi il prossimo giovedì Sarà l'ultima volta e faremo insieme la simulazione d'esame Un modo per voi di capire come sarà l'esame E soprattutto di capire a che punto siete Se avete ancora bisogno di fare esercizi Oppure se siete già dei maghi di python E potete rilassarvi fino all'esame So che è un po' presto però l'orario è questo Quindi facciamo questa simulazione d'esame In cui nelle prime due ore faremo proprio finta di essere all'esame Quindi faremo prima una parte scritta Quindi più teorica Dove in teoria sicuramente all'esame dovrete far così La prossima volta vedete un po' voi Non potrete utilizzare nessun tipo di supporto Né slide, né pc, né schermi spenti Quindi solo foglio e penna E questa, la prova teorica dura di solito 45 minuti E dopo faremo la parte pratica al pc E dura di solito un'ora In cui ci saranno una serie di esercizi Di solito tre da sviluppare sul pc del laboratorio E poi consegnare Proveremo anche la modalità di consegna Che è semplicemente un upload sul sito del corso Durante la prova pratica invece potete usare tutto quello che volete Tranne ovviamente app di messaggistica, telefono, mail, eccetera Però la parte pratica è libera Potete usare le slide, internet, quello che volete Perché l'importante è saper risolvere gli esercizi E ovviamente non troverete una soluzione online Per come strutturerò gli esercizi Ok? Domande su questo? Manderò anche magari un messaggio Soprattutto per chi non ha frequentato in presenza Di venire anche solo per provare i pc del laboratorio Le modalità di consegna Perché comunque credo sia importante Da non arrivare lì quel giorno E non sapere da che parte si è girati Ok, se non ci sono domande Direi che come al solito Vorrei vedere almeno qualche esercizio dello scorso laboratorio Che concludeva la parte più funzionale Anche se poi vedremo che la ricorsione è un ingrediente della programmazione funzionale Direi che vediamo almeno i primi due che erano i più veloci Il terzo trovate una soluzione sul sito del corso Ed era più lungo Partiamo dal primo Il primo chiedeva di utilizzare la funzione map Che è una funzione predefinita di ordine superiore Abbiamo visto che cosa significa nelle puntate precedenti E le lambda expression Per definire una nostra funzione Che qui ho chiamato map preconcat Ma poteva chiamarsi in qualunque modo Che prende due argomenti Una stringa pre Chiamiamola così E una lista di stringhe E noi volevamo ritornare La concatenazione di questa stringa Che ho chiamato pre Messa davanti A tutte le altre stringhe presenti Nella lista L'esempio chiarificava bene la consegna Quindi map preconcat Dove passiamo come parametro La prestringa com E poi una lista di stringhe Che contiene in questo caso Pewter, pile, mute E il risultato ovviamente è una lista In cui questa prestringa com È attaccata all'inizio di tutte le parole nella lista Quindi computer, compile e commute Ok? Allora vediamo un po' come possiamo farlo Apro un repl Mi definisco Direi la mia lista di parole Parole troncate A cui vogliamo appendere poi la prestringa Ovviamente quando il testo non lo specifica Non specifica che l'input va preso Dall'utente Noi possiamo direttamente definire l'input Nel codice del nostro programma Anche all'esame sarà così Se trovate scritto l'input L'utente inserisce Allora in quel caso usiamo la funzione input Per prendere appunto l'input dall'utente Viceversa potete direttamente inserire Le variabili e il contenuto di queste variabili All'interno del programma Come in questo caso Quindi my list Direi che possiamo definire Una serie di tre parole Manteniamoci fedeli al testo Quindi Pewter Pile E mute Ok Poi abbiamo una prestringa Anche qui la possiamo definire direttamente In questo caso era com Ok Allora noi vorremmo avere una nostra funzione Ripeto Il nome è indifferente Io l'ho chiamata mappreconcat Ma Non è importante questo nome L'importante è che questa funzione Utilizzi La funzione Built in Map E le lambda expression Per fornire il risultato Che vogliamo Quindi questa funzione Sicuramente riceverà come parametri Le due variabili Che abbiamo appena definito Quindi pre E my list E al suo interno farà Quello che deve fare Giusto? Allora che cosa Fa la map Che cosa serve La funzione Built in Map La utilizziamo Tutte le volte Che vogliamo Applicare Una certa Trasformazione Ad ogni elemento Di una sequenza In python E questa trasformazione Che va applicata Ad ogni elemento Viene definita Attraverso una funzione Che Definiamo Scriviamo noi E quindi questa map Prenderà questa funzione E la applicherà A tutti gli elementi Di una data sequenza Che passiamo Come parametro A questa A questa map Ok Quindi Come primo La map Accetta tendenzialmente Due parametri Anche se poi In realtà Ne può accettare Anche di più Ma di solito La usiamo con due parametri Dove Il primo parametro È la funzione Che vogliamo applicare Ad ogni elemento Di una sequenza E il secondo parametro È la sequenza Abbiamo visto La volta scorsa Che come funzione Possiamo passargli Anche una funzione Che definiamo noi Di solito è così No? Quindi Noi potremmo avere Da qualche parte Nel programma Un'altra def Che definisca Una funzione Per la nostra map Giusto? E qui facciamo qualcosa E poi come parametro Della map Noi passiamo La nostra funzione Funzione map Ops Qualcosa ho fatto Non lo so Vediamo se riusciamo A tornare Scusate Ho toccato qualcosa Che non dovevo Speriamo abbia salvato Qualcosa Ho incaricato tutto Casomai lo facciamo In Ok Forse ci siamo Si Dicevo Possiamo definirci La nostra funzione E poi Passargliela Alla map Ovviamente Ovviamente Vi ricordo Questo è un errore Che avete fatto In tanti La volta scorsa Passiamo solo Il nome Della funzione Senza parentesi Di sorta Perché Se mettiamo Le parentesi Qui Quelle tonde Vuol dire Invocare La funzione Subito Invece qui Noi vogliamo Passargli Il riferimento Alla funzione Cosicché La map Se la invochi lei Al suo interno Quando Quando gli serve Ok Tuttavia Il testo Degli esercizi Ci chiedeva Esplicitamente Di usare Delle lambda expression Ok Le lambda expression Servono proprio In questi casi Quando Noi abbiamo La necessità Di definire Delle funzioni Come questa Che ora Ovviamente È da fare Ma Funzioni semplici Che ad esempio Agiscono Su un singolo Elemento Lo trasformano E ne ritornano Il risultato Ok Usare Le lambda expression Ci permette Di evitare Di definire Esplicitamente Questa funzione Map Associandogli Un nome Usando la def Eccetera Facciamo tutto Qui All'interno D'accordo Quindi Cancello questo Avrebbe funzionato Lo stesso Avessi definito Una mia funzione Ma l'esercizio Ci chiede di farlo Con le lambda expression E quindi Posso direttamente Definire la mia Funzioncina Qua dentro A destra Della virgola Invece ci sarà La sequenza Partiamo da lì Che è il parametro Più facile La sequenza Ce l'abbiamo già E my list Ce la siamo passati Come parametro E quindi A destra Della virgola Inserisco subito My list A sinistra Invece Torniamo alla nostra Funzione Per definirla Con una lambda expression Serve sempre La parolina chiave Lambda Ok E poi avrò Una variabile Che ci identifica L'elemento singolo Su cui vogliamo agire Ok Qui è una variabile La possiamo chiamare Come vogliamo Ad esempio X Noi sappiamo Che in quella variabile X In automatico Dobbiamo fidarci La nostra funzione Map Ci va a mettere Uno per volta I valori Che trova In my list Ok Quindi X La variabile Due punti Quello che vogliamo fare Su quella variabile D'accordo La trasformazione Che vogliamo applicare In questo caso Abbiamo detto Vogliamo appendere Ad ogni stringa Presente in my list La pre stringa E come faccio? Beh Semplicemente Una concatenazione Di stringhe Quindi pre Più X Quindi ripeto La nostra funzione Map In automatico Andrà a prendere Uno per volta Gli elementi Di my list E gli Andrà a mettere In X E noi Per ognuno Di questi elementi Per ognuno Di queste stringhe Qui Facciamo La nostra stringa Pre Più Quella X Quindi concateniamo Le due stringhe Ovviamente Fatta così Questa funzione Map Preconcat Non fa niente Dobbiamo Ritornare No? Il risultato Vi ricordo Che la map Costruisce Una nuova struttura Dati Poi abbiamo visto Anche l'altra volta Che Queste funzioni Di ordine Superiore Ritornano Degli iteratori Giusto? Il concetto di iteratore È Una struttura Dati Che ci permette Di Accedere Ad un elemento Per volta Non viene Allocata Subito Tutta la struttura Dati Ma Ci viene fornito Un iteratore Con cui Tramite il metodo Next Possiamo Recuperare Un elemento Per volta Concetto di Lazy Evaluation Utile Quando le strutture Dati Contengono Tantissimi elementi Evitiamo Di dover Allocare Tutto in una sola volta Milioni di elementi Non è questo il caso Ne abbiamo tre Però Python funziona così Quindi se vogliamo Ottenere In un colpo solo Tutta la struttura Dati Ad esempio Per stamparla Possiamo Trasformare Questo iteratore Direttamente Ad esempio In una lista Con la funzione List Che includa Tutta la map Qui va a capo Ma Ok Ci siamo A questo punto Posso invocare La mia map Preconcat E farne quello Che voglio Che ne so Potrei ad esempio Avere una nuova variabile New list In cui mi salvo Il risultato Map Preconcat Qui passo I miei due parametri In ordine Quindi pre E my list E poi di questa new list Ne posso fare Quello Quello che voglio Ad esempio Stamparla Ok Proviamo a lanciare E vedete Il risultato Una nuova lista In cui ogni elemento È agganciato Con la pre-string Domande Su questo esercizio Ok Se non ci sono domande Possiamo passare Al secondo Che era addirittura Direi ancora più facile Ed era sulla Funzione Sorted Quindi data Una lista Di tuple Quindi una struttura Dati un po' Più complicata Vedete Qui abbiamo Una lista Perché abbiamo Le due parentesi Quadre All'inizio Alla fine E poi ogni elemento Di questa lista È una tupla Composta da In questo caso Due elementi Un numero E una stringa Quindi Data questa struttura Dati Scrivere è un programma Che ordina Queste tuple In un modo Un po' Particolare Occorre ordinare Sulla base Del Ultimo carattere Del secondo item Di ogni Tupla In ordine Inverso Quindi in sostanza Vogliamo ordinare Per ultimo carattere Delle stringhe Quindi per K A I T T Eccetera Facciamo un ordinamento Basato su questo Singolo carattere Ovviamente Il primo dato In questo caso Direi che Sarà uno Tra Alabama West Virginia E California Ok No in ordine Inverso Quindi questi Saranno gli ultimi Quindi il primo Elemento Sarà K T Ok Vediamo come Possiamo farlo Anche qui Ci chiede Esplicitamente Di usare Vabbè La sorted function Il parametro Reverse Per avere L'ordine Inverso E le Lambda Expression Perché ci serve Una lambda Expression Cos'è che dobbiamo Definire qui A che cosa ci serve Una funzione In questo caso Ci serve per Definire il criterio Di ordinamento Ok Dobbiamo in qualche Modo dire a Python Come fare Dato un elemento Singolo Che è la sorta Ed è in grado Di estrarre Dobbiamo in qualche Modo dire a Python Come fare Andare a prendere Il campo Specifico In questo caso Un carattere Su cui effettuare L'ordinamento Altrimenti ovviamente Python non è in grado Di farlo Allora Volevo copiare Questa Lista qui Non me lo fa fare Da Vediamo se Scaricandolo E aprendolo Con Ok lo copio E me lo inserisco Nel mio Programma E ho la mia Lista di Di tuple Anche all'esame Se c'è un esercizio In cui Vi si dà Già una struttura Dati un po' più Complicata Messa lì Nel testo Potete semplicemente Copiarla E incollarla Nel vostro Programma Allora vogliamo Ordinare Questa Questa struttura Dati Con la funzione Sorted La funzione Sorted Può Prendere Tre parametri Il primo È la sequenza Da ordinare In questo caso È facile È cities Ok Bene Poi abbiamo L'ultimo parametro Ho messo due virgole Lasciando uno spazio In mezzo Per ora L'ultimo parametro È il reverse Con il parametro Reverse Che ho sbagliato Ok Possiamo dire Vero o falso Se vogliamo L'ordine inverso Vero Oppure No Falso In questo caso Il testo ci chiede L'ordine inverso Mettiamo Reverso Uguale a true Se non specifichiamo niente Questo parametro Di default È falso Quindi l'ordine Normale Ascendente Ora qui Dobbiamo specificare Il Modo Con cui Il criterio Di ordinamento Quindi Lo specifico Campo O carattere In questo caso Su cui effettuare L'ordinamento Perché Se non specificassimo Questo Come verrebbe ordinata Questa lista L'abbiamo visto La scorsa volta Se non specifico niente Se non gli do Un criterio Di ordinamento Scusami Non ho sentito Sì Quindi Il vostro compagno Dice Prova prima Col primo valore Di ogni tupla E nel caso Due valori Fossero uguali Guarda il secondo Questo è l'ordine Lessico grafico L'abbiamo visto La volta scorsa Quindi Nel caso di tuple Ordina secondo Il primo elemento Di ogni tupla Se ne trova due uguali Guarda il secondo Non è quello che vogliamo Come prima qui Chi uguale Possiamo dargli Una funzione Dobbiamo dargli Una funzione Di nuovo Abbiamo la possibilità O di definirla Noi Con una def Nome f Due punti E poi qui Passandogli Nome f Di nuovo Senza nessuna parentesi Oppure Per evitarci Di scrivere Esplicitamente Questa funzione Possiamo usare Le lambda Expression Quindi di nuovo Lambda Abbiamo Vabbè Il due punti Dove a sinistra C'è di nuovo Il singolo elemento Della sequenza Chiamiamolo di nuovo X In automatico La sorted Mette Uno per volta All'interno Di questa X Che cosa? Mette Una tupla Per volta Ok? Occhio qui Non siamo In presenza Di elementi Semplici Come prima Delle stringhe Ma qui ogni elemento È la tupla Nel Nel suo complesso Ok? Quindi abbiamo Uno Due Tre Quattro Cinque Sei tuple Sei elementi In questa lista A partire da questa tupla Noi dobbiamo andare a dirgli Che parte della tupla Ci interessa Per fare L'ordinamento In questo caso Il singolo Il singolo carattere Della stringa Che è il secondo elemento Della tupla Come facciamo Allora Dobbiamo agire a due livelli Cioè Data una tupla La prima cosa da fare Direi andare a Recuperarci La stringa E poi Dalla stringa Passiamo al singolo carattere Allora Per accedere Per accedere alla stringa La tupla ha due elementi Posizione 0 Il numero Posizione 1 La stringa E quindi posso dire X di 1 X di 1 Ci identifica La stringa Adesso Da questa stringa Dobbiamo passare Al singolo carattere Quindi In questo caso L'ultimo Come faccio? L'altra volta Sì? Meno 1 Ok Vediamo perché L'altra volta Ho visto che tanti Provavano a fare uno slice Qui Non è uno slice Perché lo slice Serve quando vogliamo Andare a prendere Una Un sotto insieme Della sequenza In questo caso Della stringa Quindi Potenzialmente Anche più di un carattere Qui siamo interessati Al carattere singolo Quindi è di nuovo Un accesso posizionale Nello stesso modo In cui facciamo X di 1 Per accedere a Un elemento Della tupla Faremo Sequenza di Indice Per accedere A un singolo carattere Qui abbiamo Due possibilità O usiamo Il meno 1 Usando un Indice Negativo Facciamo Partire L'accesso Posizionale Dal fondo E veniamo Indietro Quindi Meno 1 Significa Appunto L'ultimo Elemento Di una sequenza D'accordo? Questo se vogliamo Andare All'indietro Se vogliamo Usare L'accesso Posizionale Classico Quindi andando Da sinistra Verso destra Come potremmo fare? A che posizione È l'ultimo carattere Di una stringa In questo caso? La lunghezza Della stringa Meno 1 Quello identifica Indipendentemente Dalla lunghezza La posizione Dell'ultimo carattere Quindi Otteniamo Meno 1 Oppure diciamo Lunghezza di stringa Meno 1 Quindi l'en di Che cosa ci identifica La stringa Qui? X di 1 Perfetto L'en di X di 1 Meno 1 No scusate Ho sbagliato Ovviamente Il meno 1 Sta fuori Dalla parentesi Tonda Quindi Calcoliamo Prima la l'en E poi facciamo Meno 1 Tutte e due Le soluzioni Sono valide L'ultima cosa Da notare È che Come detto La volta scorsa La sorted Non modifica Direttamente La struttura dati La sequenza Che passiamo Alla funzione Quindi Cities Continua ad essere Così come L'abbiamo definita Ma Sorted Costruisce Una nuova struttura dati E ce la Ritorna E quindi Io devo In qualche modo Recuperarmela Salvandola Ad esempio In una Variabile Ordered Cities Uguale Sorted E poi Di questa Ordered City Ne faccio Quello che voglio Ad esempio La stampo Andiamo un po' Se va Direi di sì Il primo elemento È Vermont Il secondo Quindi La T Il secondo È New York La K Hawaii La I E poi abbiamo Le tre A Alabama West Virginia E California Come vedete Esatto Vediamo un po' Se torna No Stavo cercando di capire Che criterio aveva utilizzato Per ordinare Le ultime tre Gli ultimi tre elementi Che Hanno tutte la Tutti la Ma Probabilmente in questo caso È andato un po' A caso Ha mantenuto l'ordine Che ha trovato Perché Il primo numero Di Alabama È 48 87 871 Ed ha 1 2 3 4 5 6 7 Numeri Il secondo Il secondo è 1 2 3 4 5 6 7 Ma è più piccolo E questo è più grande Quindi In questo caso Probabilmente ha mantenuto L'ordine con cui Ha trovato Gli elementi Mentre vi ricordo Se non passiamo niente Lui Adotta l'ordine Lessicografico Se avessimo usato lo slice Sarebbe funzionato lo stesso Allora il vostro compagno Chiede Se avessimo usato lo slice Avrebbe funzionato lo stesso Sì A patto di Ottenere uno slice Di un singolo elemento Però concettualmente Non è È più corretto Fare un accesso posizionale Perché appunto Siamo interessati a Un singolo Elemento Ovviamente Nulla vieta di Ordinare questi elementi Sulla base Ad esempio Degli ultimi due caratteri Della stringa In questo caso Lo slice Sì che era necessario Perché Eravamo interessati A prendere Do Una sottostringa E quindi A quel punto Lo slice Si prestava Si prestava bene In questo caso Un solo carattere Quindi è meglio L'accesso posizionale Va bene Questo direi che chiude Il blocco Python Functional Partiamo con la parte Ricorsiva Ok Allora se non sbaglio Voi la ricorsione L'avete già vista Giusto In C Dico bene Quindi in teoria Siete già esperti Di ricorsione O Vabbè Vediamo come Come va oggi Credo di riuscire A complicarvi un po' Le cose Credo di riuscire A mostrarvi Alcuni esercizi Alcuni esercizi Più complicati Di quelli Che avete fatto Ma in ogni caso La ricorsione In generale È uno degli argomenti Più ostici Direi Dell'informatica In generale Perché richiede È proprio un cambiamento Di mentalità Quindi non fa male Anche rivederla Un'altra volta Con un nuovo linguaggio Con un nuovo docente Che magari ve la spiega In modo diverso E Se non l'avete ancora capita Speriamo che Questa sia Sia la volta buona Quindi vediamo Come scrivere Programmi ricorsivi In Python E innanzitutto Partiamo dal perché Vogliamo affrontare Questo Questo argomento Sicuramente perché La ricorsione È Un modo di programmare In modo Funzionale E vedremo dopo perché E Ci permette soprattutto Di Adottare un approccio Che possiamo chiamare Di Dividi e impera No? Quindi Ci permette di dividere Un problema Complicato Che non sapremmo risolvere Così Al volo Di dividerlo In tanti piccoli pezzi Che invece sono Più facilmente Risolvibili Ok? Si può usare Per molti casi D'uso La ricorsione E uno di questi Casi d'uso Che vedremo è L'esplorazione Sistematica Di un insieme Di soluzioni Vedremo dopo Un esercizio Che è il calcolo Degli anagrammi Ad esempio Per calcolare Gli anagrammi Noi vogliamo Mischiare Le lettere Di Una parola E andare a Sistematicamente Esplorare Tutte le possibilità Che abbiamo Nel mischiare Queste Queste lettere Farlo a mano È complicato Farlo in modo Iterativo Diciamo così Con i for E complicato Con la ricorsione Vedremo che Riusciamo a risolvere Il problema In tanti piccoli Sottoproblemi Che poi combinati Ci danno Un insieme Di tutte le possibili Alternative Per trovare Questi anagrammi L'altro motivo Per cui si può usare La programmazione Ricorsiva Soprattutto Nella programmazione Funzionale È per gestire Quelle strutture Dati Che sono Di natura Ricorsive Tipo gli alberi E i grafi Quindi la ricorsione Si presta molto bene In questi In questi casi La usiamo Nella programmazione Funzionale Perché Uno Ci permette Di evitare Di Alterare Lo stato Di variabili O strutture Dati All'interno Di un algoritmo Ok E quindi Ci mettiamo Al riparo Da problemi Tipo Usiamo Delle variabili In un ciclo E poi le modifichiamo Da un'altra parte Nel nostro programma E soprattutto Anche Tramite La ricorsione Noi Specifichiamo Più Che cosa Vogliamo ottenere Più che come Al posto di dire Al nostro Computer Ok Fai Cento giri Di questo ciclo E in ogni Giro del ciclo Fai Istruzione X Y Z Qui Cambia Proprio La prospettiva Dici Proprio Il Il modo Con cui Programmiamo Rappresenta Più il Che cosa Vogliamo Ottenere Piuttosto Che il Come Quindi Che cosa Definisce Una procedura O una funzione Ricorsiva Beh E' abbastanza Intuitivo Una procedura O una funzione Definita Ricorsiva Quando All'interno Della sua Definizione Abbiamo Una chiamata Alla stessa Funzione O procedura Ricorsiva Ok Quindi Tendenzialmente Abbiamo una Def Funzione A Due punti E all'interno Del corpo Di questa Funzione Abbiamo Una chiamata Alla funzione A stessa Quindi una funzione Che chiama Se stessa Questo è il caso Più semplice La chiamata Diretta Potremmo anche Avere però Delle chiamate Indirette Ad esempio Funzione A Che richiama Una funzione B La funzione B richiama A sua volta La funzione A Ok Quindi la funzione A è sempre Ricorsiva Ma ha un passaggio In più Però è comunque Una funzione Che richiama Se stessa Quindi Direttamente O indirettamente Una funzione Ricorsiva Richiama Se stessa E ovviamente Un algoritmo È detto Ricorsivo Quando è basato Su funzioni Ricorsive Ma questo Mi sembra Abbastanza Ovvio Che cosa Significa Questo Che la funzione Continuerà A chiamare Se stessa E a ripetere Il proprio Comportamento Fino a quando E questa è la domanda Fondamentale Fondamentale Della ricorsione Cioè Dobbiamo Sempre avere All'interno Di una funzione Ricorsiva Una condizione Di terminazione Prima o poi Questa Ricorsione Deve finire Altrimenti Andiamo incontro Al classico errore Dei programmi ricorsivi Lo lancio E Il programma Va in palla E non termina più Perché è entrato In un loop infinito Chiama Se stesso All'infinito Quindi Dobbiamo Sempre avere Una condizione Di Terminazione E vedremo dopo Che cosa Significa Dietro la scena Diciamo così Ogni chiamata Ricorsiva Aggiunge Nello stack Il suo contesto Di esecuzione Cioè Ogni chiamata Ricorsiva Avrà le proprie Variabili I propri dati Il proprio contesto Che viene aggiunto Allo stack Fino a quando Raggiungiamo La condizione Di terminazione Quando la raggiungiamo Le varie Chiamate Ritornano Ok E questo stack Si srotola All'indietro Alcuni problemi Innanzitutto Possiamo dire Che Python È molto lento Quando si tratta Di programmi Ricorsivi Proprio perché Ha Una grandezza Dello stack Limitato Quindi Ogni Funzione Aggiunge Il proprio Contesto Di esecuzione Allo stack Purtroppo In Python La dimensione Di questo stack È limitata Si può Incrementare Modificando Qualche parametro Però Non cambia Molto la situazione E soprattutto Ora Non riusciamo Andare nei dettagli Rispetto ad altri Linguaggi Di programmazione Python In Python Non ci sono Determinate Feature Che permettono Di rendere Efficiente Questa La ricorsione Quindi In generale Soprattutto In Python Quando C'è O vi viene in mente Una versione Iterativa Quindi Con i cicli Per risolvere Il vostro programma È sempre meglio Utilizzarla Perché È più leggibile Sicuramente Perché capiamo Come vogliamo Risolvere Il problema E in generale È più efficiente Soprattutto In Python Detto questo Ovviamente Se In un esercizio All'esame Vi viene richiesto Di Scrivere un programma Ricorsivo Fatelo In modo Ricorsivo Ovviamente Tuttavia Nonostante Appunto La ricorsione Possa essere lenta In molti casi E soprattutto In Python Ci sono Problemi Che sono Naturalmente Risolvibili Tramite La ricorsione Problemi Che si prestano Meglio A essere risolti In modo Ricorsivo Che in modo Iterativo Ok Vedremo dopo Un esempio Classico Della ricorsione E il calcolo Della serie Di Fibonacci Ad esempio Quindi Come possiamo Procedere Dobbiamo Definire Un metodo Per risolvere Dei sottoproblemi Che sono Simili Al problema Iniziale Ma più facili Più piccoli Più facili Da risolvere Risolviamo I sottoproblemi E poi dobbiamo Trovare un modo Di combinare Queste soluzioni Parziali Che sono le soluzioni Ai vari Sottoproblemi Combiniamo Combiniamo Queste soluzioni Parziali Per ottenere Poi la soluzione Al problema Originale Quindi Se vogliamo Vederla in modo Più sistematico Questo approccio Di dividi Qui è impera Dato un problema Più di Dividiamo In un set Di Sottoproblemi Qui Che sono Sempre dei Sottoproblemi Anche complessi Ma più semplici Del problema Pi Poi cerchiamo Di risolvere Ogni Qui E Ricombiniamo Le soluzioni Che otteniamo Ok Ovviamente Il processo Di dividere Il problema E di Unire Le soluzioni Parziali Deve essere Deve essere Semplice Cioè Il processo Di divisione Non può Impiegare Dieci secondi Perché altrimenti Ovviamente Il nostro programma Non terminerà mai No Quindi questi processi Devono essere Molto Molto Veloci Un caso D'uso Lo dicevamo Prima Di questa Di questo approccio È l'esplorazione Quindi Una procedura Sistematica Per Esplorare Tutte Le possibili Soluzioni Di un Dato Problema Ad esempio Quando vogliamo Calcolare Le permutazioni Le combinazioni Ecc Quindi Dividiamo Il problema Andando ad Esplorare Tutte le possibili Soluzioni Questo è Un Possibile Caso D'uso Un altro Caso D'uso Invece È la ricerca Dell'ottimo Problemi di Ottimizzazione No Non siamo Interessati a Tutte Le soluzioni Le soluzioni Ma solo Alla Migliore Quello È un altro Caso D'uso Cambia Qualcosina Ma è un altro Caso D'uso Della Della Ricorsione Cerchiamo di Vederla In modo ancora più Sistematico Con una sorta di Metalinguaggio Allora abbiamo Una chiamata Una funzione Solve In questo caso Ok Che è La funzione Ricorsiva Che ci ritornerà Una soluzione Finale Che noi Salveremo In solution Questa solve Prende come parametro Il nostro problema Allora Che cosa facciamo Come Ops Come primo step Dividiamo Il nostro problema E vedete che il risultato È una lista Di sottoproblemi Subproblems Poi per ognuno Di questi Subproblems Quindi For Sub P In Subproblems Risolviamo Il sottoproblema Richiamando La stessa funzione Solve E andiamo a Salvarci Il risultato Di questi Sottoproblemi La soluzione Parziale Di questi Sottoproblemi In una struttura Dati Sub Solution Ovviamente Qui Richiamo Solve Con un Sottoproblema Nulla Mi vieta Poi di Dividere A mia volta Il sottoproblema In altri Sottoproblemi Ovviamente Alla fine Di tutto Avrò La combinazione Combine Dei vari Delle varie Soluzioni Parziali Che mi ero Salvato In Sub Solution E ritornerò La soluzione Finale Questo può essere Una sorta Di schemino Qual è il problema Che vediamo qui E che cerchiamo Di risolvere Nelle prossime Slide E che come vi ho detto Nulla mi vieta Di avere Più step Cioè Di avere Il mio problema Lo divido In sottoproblemi Poi ogni Sottoproblema Continuo a dividerlo Continuo a dividerlo Potenzialmente Fino a quando E questa è sempre La domanda chiave Qui Quello che manca È un po' La condizione Di terminazione Cioè Quando smetto Di dividere Il mio problema Questo è quello Che abbiamo detto Infatti La ricorsione Non deve essere Ovviamente Infinita Perché ogni Algoritmo Deve Ovviamente Terminare Quindi dopo Un Un numero Sufficiente Di Livelli Cioè Di divisione Dei problemi I Sottoproblemi Che abbiamo chiamato Subproblems Diventano Veramente piccoli Facili Da risolvere Ok Quindi Risolvibili Ad esempio Con Una semplice Return Una semplice Addizione Con Metodi Diversi Dalla Ricorsione Ok Quando arriviamo A quel momento È il momento Di fermarsi Quindi Quando raggiungiamo Quella condizione Lì Dove I problemi Sono Facilissimi Da risolvere È il momento Di Uscire Da questo ciclo For Smetterla Di chiamare Solve E cercare Di ricombinare Le varie Soluzioni Quindi Ricordarsi Sempre La condizione Di terminazione Per assicurarci Che Scusate Ho detto male Per Andare Ad Identificare I Sottoproblemi Facili Da risolvere Cioè Quando Individuiamo Che I sottoproblemi Sono Diventati Piccolissimi Facili Da risolvere Lì È il momento Della condizione Di terminazione Quindi È il momento Di stoppare La ricorsione Quindi Questo Migliora Lo schemino Che abbiamo Visto prima Vedete Che Oltre Allo Schemino Di prima Abbiamo Una if Importantissima All'inizio Della Della nostra Funzione Quindi Prima di Dividere I nostri Problemi Ancora Una volta Ci chiediamo Se il problema È facile Da risolvere Risolviamolo Ok Altrimenti Importantissima Questa else Facciamo quello Che facevamo Prima Quindi Continuiamo A dividere Il problema E far andare Avanti La ricorsione Perché Non siamo Ancora In grado Di risolvere I sottoproblemi In modo Facile Però Vedete Questa else Se raggiungiamo La condizione Di terminazione Questa else Fa sì Che Non venga Più Portata avanti La ricorsione Mi sembra Chiaro Perché Se entriamo Qua dentro Ovviamente Non entriamo Più Nella else E quindi In questo caso Eseguiamo La Return Solution Senza Procedere Quindi Lo schemino Può essere Check Della condizione Di terminazione Altrimenti Faccio Ricorsione Vediamo Il caso D'uso Dell'esplorazione Quello Dove Ci interessa Enumerare Tutte le possibili Soluzioni In questo Caso C'è un passettino In più Vediamo Solo No Ok Qual è il passettino In più Qui Il passettino In più È questo La ricorsione Per l'esplorazione Viene utilizzata Di solito In questo Modo Viene utilizzata Per costruire Una soluzione Un passo Per volta Facciamo L'esempio Degli Anagrammi Che vedremo Dopo Così vi do Già un indizio Su come Poi poterlo Risolvere Un'idea Per risolvere Ricorsivamente Il calcolo Degli Anagrammi È quello Di Partire Da una Stringa Vuota Ok E Aggiungere Una lettera Per volta Ok Avere Una Procedura Ricorsiva In cui Il problema Semplice È quello Di Aggiungere Una lettera A Una Stringa Che parte Vuota E si allarga Ovviamente Si allargerà Fino a quando Fino a quando Raggiungerà La lunghezza Della parola Stessa No Ok Quindi Prendo una lettera La metto Una per volta Nella mia Stringa Va bene Però io sono interessato A Esplorare Tutte le possibili Soluzioni Quindi Supponiamo Di avere La parola Che ne so Ciao Ok Parto col calcolo Degli anagrammi Da una stringa Vuota E ci metto La c No Voglio trovare Tutti gli anagrammi Che iniziano con c E da lì Faccio andare avanti La mia ricorsione Ovviamente Avendo messo la c Ho messo una lettera Nella prima casella Qual è il problema E che ci sono anagrammi Che iniziano anche per i In questo caso Anche per o E quindi Il pattern diventa Ok Metto un elemento Faccio andare avanti La ricorsione Poi però Quando torno indietro Mi devo anche ricordare Di togliere Quell'elemento Per eventualmente Provare altre strade No Supponiamo Io parto Con la stringa vuota Ci metto la c Faccio andare avanti La ricorsione Poi quando la ricorsione Tornerà indietro Io dovrò essere in grado Di togliere la c Mettere la i E far andare avanti La ricorsione Alla ricerca Di tutti gli anagrammi Che iniziano In questo caso Per i Giusto Questo si applica Ovviamente Alla prima casella Ma anche a tutte le altre Supponiamo di aver messo Due lettere C O E di Far andare avanti La ricorsione Per trovare Tutti gli anagrammi Che iniziano Per C O Ad un certo punto Dovrò togliere la O E mettere ad esempio La A Per trovare Tutti gli anagrammi Che iniziano con C A Quindi Il passo in più Che abbiamo Nel caso d'uso Dell'esplorazione È questo Divido sempre In sottoproblemi E poi Per ogni sottoproblema Faccio qualcosa In questo caso Metto una lettera Rilancio la ricorsione Avendo aggiunto Quella lettera E poi tolgo Quella lettera Per provare Percorsi diversi Questo Questo Concetto di togliere Un elemento Di tornare indietro Si chiama Nella ricorsione Backtracking Ok Spero di Averlo spiegato In modo Comprensibile Poi vedremo Vedremo degli esercizi Altro concetto Mantenere lo stato Come ho detto prima Quando Abbiamo delle Chiamate ricorsive Ogni chiamata Recorsiva Ha il suo contesto Di esecuzione Che aggiunge Allo stack Quindi dobbiamo Trovare il modo Di Mantenere Uno stato Durante la ricorsione Uno stato Che sia Indipendente Dai contesti Di esecuzione Locali Delle funzioni No? Ogni funzione Avrà le sue Variabili Locali Nel proprio Contesto Di esecuzione Però noi Da qualche parte Dobbiamo Tenere traccia Di una soluzione Globale No? Ai nostri problemi Proprio per Combinare Le nostre Soluzioni Parziali Come facciamo? Due Possibilità Il primo La prima Quella consigliata È di passare Lo stato Come parametro Alle varie Chiamate Ricorsive La seconda Modalità Sconsigliata È quello Di usare Delle variabili Globali Ok? Vediamo Un esempio Magari lo facciamo Insieme Questo esempio Ci chiede Di calcolare La somma Uno Più due Più tre Più bla 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 Dieci Ricorsivamente Ovviamente Sarebbe molto più facile Farlo con un ciclo for Ma noi lo facciamo Ricorsivo Solo per far Vedere Come possiamo Mantenere lo stato Allora È chiaro L'esercizio Vogliamo calcolare Una somma Dati i numeri Da uno a dieci Vogliamo calcolare Uno Più due Più tre Più quattro Più cinque Eccetera In modo Ricorsivo Allora Come possiamo fare Avremo Una nostra funzione Chiamiamola Somma Ricorsiva E poi avremo Direi Due variabili Una variabile Che ci tiene traccia Di questa somma Anche qui L'idea Può essere Quella Che vi ho raccontato Prima Degli anagrammi Una variabile Che parte Da zero E mano a mano Incrementiamo A seconda Del numero Che stiamo Analizzando Ok Quindi partirà Da zero Poi ci aggiungeremo Uno Eccetera E quindi Chiamiamola Somma Cumulativa Chiamiamola Somma E basta Parte da zero E poi Avremo E poi avremo Magari Anche una variabile Per tenere traccia Del numero A cui siamo arrivati Giusto Partiamo in questo caso Direi da uno E andiamo avanti Fino a dieci D'accordo Vi faccio notare Che qui sto Utilizzando L'approccio Con le variabili Globali Ok All'interno Della mia Funzione Che cosa Farò Dicevo L'idea È di analizzare Un numero Per volta Partendo da uno Arrivando a dieci Ogni volta Aggiungere questo numero Alla mia somma E richiamare La funzione Somma ricorsiva Quindi Qual è il passo Base Da fare Potrebbe essere Quello di dire Ok Aggiungo il mio numero A cui sono arrivato A somma Quindi dico Somma Più Uguale Numero Giusto Poi Incremento il mio numero Numero Più Uguale Uno E richiamo La funzione Ricorsiva No Quindi Supponiamo Partiamo In questa condizione Qui Quando numero È uno E somma È zero Che cosa Farò Somma Più Uguale Uno Somma Diventa Uno Incremento Il numero Da uno Passa a due E richiamo Somma Ricorsiva Torniamo Qui Ora Aggiungiamo Il due E passiamo Al tre E richiamo Somma Ricorsiva Aggiungiamo Tre E passiamo Al quattro E richiamo Somma Ricorsiva Ok Che cosa Manca qui Abbiamo detto N volte Prima Dobbiamo A un certo Punto Fermarci Quando è che ci Fermiamo Quando è uguale a 11 Quando è uguale a 11 Ad esempio Perfetto Quindi All'inizio di ogni Funzione ricorsiva Di solito Esplicitamente O implicitamente Può anche essere Una condizione Implicita Ma c'è Una condizione Di terminazione In questo caso È esplicita If Numero Uguale Uguale A 11 E direi Che abbiamo Finito Che cosa Possiamo fare Return Numero Giusto Quindi Abbiamo finito Ritorniamo Il nostro Numero Che ci Tiene traccia Della Somma Complessiva No Scusate Somma Ovviamente Return Somma Altrimenti Continuiamo Non abbiamo Ancora raggiunto La fine E quindi Aggiungiamo Somma E facciamo Progredire Il nostro Numero Adesso Vedete Che Repl Mi Segnala Come errore Queste due Linee Questo è Perché Stiamo Usando Delle Variabili Globali Ok E in Python Dobbiamo Dirgli Che ci Stiamo Riferendo Esattamente Alle Variabili Globali Che abbiamo Definito Qui E quindi Persi In tassi Di Python Dobbiamo Scrivere Qui Che Numero E somma Sono due Variabili Globali Con la Keyword Global Ok Stiamo dicendo Questa funzione Guarda Usa proprio Le variabili Globali Che sono Definite Prima Ma Di nuovo Questa è una Soluzione Sconsigliata Quindi Se usate Global All'interno Dei vostri Programmi Vuol dire Che c'è C'è Qualcosa Che non Va Allora Ho lanciato Il mio Il mio Programma Forse Ah no Ok Si Non fa niente Perché Non ho stampato Niente Ovviamente Non ho neanche Richiamato Questa funzione Quindi qui L'abbiamo Definita Def E poi Nel mio Programma Principale La vado A richiamare Ad esempio Stampandone Il risultato Direttamente Proviamo Un po' No Che cosa A me non stampa Niente Quindi più o meno Siamo nella stessa Situazione Che cosa Ho dimenticato Vediamo un po' Un attimo Ah certo Si Ho dimenticato Una Una return In questo caso Perché ovviamente Noi vogliamo Sempre ritornare Il nostro Il nostro Risultato Altrimenti Richiamando Esclusivamente La funzione Ok Noi Non passiamo Mai all'indietro Il valore A cui siamo Arrivati È un caso Un po' Particolare Comunque Funziona Vedete Ci ha calcolato La La somma Ricorsiva Adesso Come Possiamo fare A risolvere Il problema Di utilizzare Variabili Globali Che Nella programmazione Funzionale È sempre sconsigliato Perché qualcuno Ad esempio Dall'esterno Potrebbe sporcare Queste due Variabili Abbiamo detto L'alternativa È Passare Passare Questi parametri Passare lo stato Come Come parametro E quindi Al posto di avere Queste variabili Globali Io predispongo La mia funzione Ricorsiva Per ricevere Questi Questi due Valori Quindi Numero Virgola Somma A questo punto Questo sparisce Le due Variabili Globali Spariscono Anche Queste due Righe di Codice Questo Rimane Uguale E Al posto Di Modificare Questi Queste Variabili Qui Lo posso Fare Direttamente Qua Dentro Passando Ogni volta Alla mia Somma Ricorsiva Numero Più Uno E Somma Più Numero Ok Passo Alla mia Chiamata Successiva Il numero Incrementato E la somma Incrementata Ovviamente Devo anche Specificare I valori Di partenza Che in questo Caso Non saranno Più Definiti Nelle variabili Globali Ma saranno Definiti Qui Nella Chiamata Alla Funzione Numero Varrà Uno E la somma Partirà Da Zero Il risultato È lo stesso Ma È meglio Dal punto di vista Del codice Soprattutto in ottica Programmazione Funzionale Questo era un primo esempio Di Programmino ricorsivo Vedete di nuovo La condizione di terminazione Fondamentale In questo caso Non è un'esplorazione Vogliamo arrivare Fino al fondo E poi ritornare Questo valore Quindi non c'è un Backtracking Ecco Ma Arriviamo fino in fondo E ritorniamo E ritorniamo Il valore Perché c'è questa Return qui Perché non basta Chiamare solo Somma ricorsiva Per questo motivo Cerco di spiegarlo meglio Ok Noi arriviamo Chiamiamo queste Funzioni ricorsive No Partiamo da zero Andiamo avanti Continuiamo a chiamare Somma ricorsiva Somma ricorsiva Somma ricorsiva Incrementando il nostro numero Finché arriviamo al fondo Alla nostra condizione di terminazione Dove somma vale 55 A questo punto Che cosa succede Questa funzione Ritorna 55 Ma Prima di questa funzione Nello stack Ci sono tutte le chiamate Che abbiamo fatto Per raggiungere Quel punto lì No Noi abbiamo fatto Incrementare lo stack Chiamata 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 Siamo arrivati al fondo Adesso dobbiamo srotolare Questo stack Quindi dal fondo Dobbiamo ritornare Il mio 55 Fin su Fino al chiamante Questo è il motivo Per cui c'è Una mia return 55 Al fondo Ma poi tornando Ma poi tornando indietro Io devo ritornare Questo 55 Fino a chi Mi ha chiamato Ok E questo è il motivo Per cui serve anche Una return Qui Questa return Qui serve un po' Da passacarte Quando abbiamo raggiunto Il fondo Questo 55 Qui risale Tra le varie chiamate Viene ritornato Al programma Principale Quindi andiamo giù Fino in fondo Fino alla condizione Di terminazione E poi questo 55 Lo facciamo salire Con queste return Qua Il cui obiettivo È proprio di Ritornare Il mio valore Alla prima chiamata Che c'è stata Che è questa qua Se noi non mettiamo Questa return Il nostro valore 55 Che ritorniamo lì Al fondo Si perde Perché non riesce A risalire su Non viene ritornato E questo è il motivo Per cui se non metto La return lì Mi stampa Assenza di valore Perché ho perso Il mio Il mio risultato Ok Domande fino a qua Capisco che possa essere Magari un po' Difficile Entrare nell'ottica Anche difficile Spiegarlo Quindi spero Di averlo Spiegato in modo chiaro Secondo me E poi facendo esercizi Si chiariscono meglio Le cose E riusciamo a vedere Anche i vari casi d'uso Allora vi propongo Un primo esercizio Che è quello Un classicone Della ricorsione Probabilmente l'avete fatto Anche in C Immagino Scrivere un programma Ricorsivo Che calcoli L'ennesimo numero Di Fibonacci Ok Quindi A questo programma Io potrò chiedere Ad esempio Fibonacci Di 10 Dimmi Il decimo valore Della Serie di Fibonacci E lui me lo sputa fuori Ok Quindi Non ci dice Non è un generatore Che ci genera Tutti i numeri Di Fibonacci Ma un programma Che ci dà Il singolo Il singolo numero Qui avete anche La definizione Della serie di Fibonacci Che vedete È ricorsiva Per definizione Perché tolti Fibonacci di 0 Fibonacci di 1 Fibonacci di n più 1 Si calcola sulla base Dei due numeri precedenti E quindi Già la definizione stessa È ricorsiva Ok Quindi scrivere Questo programma In modo ricorsivo E poi lo risolverete Proviamo insieme Vi lascio Un quarto d'ora Allora Proviamo un po' A A risolverlo insieme Ho visto che La maggior parte di voi Ce l'ha fatta Quindi bene Vuol dire che Vi ricordate abbastanza La ricorsione Allora Innanzitutto Cerchiamo di capire Già dalla definizione Qual è la nostra Condizione di terminazione Cioè Quali sono Quei sottoproblemi Che diventano Facilissimi Da risolvere Quando è che sappiamo Subito Dire quanto vale Un numero di fibonacci Beh direi in questo caso Per fibonacci di 1 E per fibonacci di 0 Siamo d'accordo? In questo caso Noi sappiamo Che per definizione Fibonacci di 1 Vale 1 Fibonacci di 0 Vale 0 Quindi direi che Quelle sono Le nostre condizioni Di terminazione Quando arriviamo lì Siamo arrivati Alla fine Quindi l'idea È di lavorare Un po' al contrario No? Partire Dal problema Che ci dice Ok Calcolami Fibonacci di n E andare In profondità Fino a quando Raggiungiamo I due sottoproblemi Semplici Quindi 1 E 0 Questa può essere Un'idea Quindi se noi abbiamo La nostra funzione Fibonacci Def Fibonacci A cui passiamo Il nostro valore N Quindi Fibonacci di 10 Ad esempio Che cosa possiamo dire? Che Beh Sicuramente Se abbiamo raggiunto N Uguale Uguale a 0 Possiamo dire Subito Return 0 Giusto? Questa è la prima condizione Allo stesso modo Se raggiungiamo N Uguale Uguale a 1 Possiamo dire Return 1 Serve una Else qua? Direi di no Perché la Return Ci fa uscire Della funzione Quindi è superfluo Dire Elif Ok? Se lo mettiamo Non cambia nulla Quindi le due condizioni Di terminazione Se sono arrivato lì Ritorno direttamente Il valore Altrimenti Che cosa faccio? Mi fido Che la mia Funzione ricorsiva Saprà risolvermi Il Fibonacci Di un numero Inferiore E quindi dico Return Io so che Ogni numero Di Fibonacci Si calcola Sulla base Dei due precedenti Posso dire Return Fibonacci Di N Meno 1 Più Fibonacci Di N Meno 2 Ok? E qui lo sforzo Che bisogna fare Ci dobbiamo fidare Che la nostra Procedura Ricorsiva Saprà Risolvermi In qualche modo Il Fibonacci Di un numero Precedente Lo saprà Risolvere Andando sempre Più in profondità Fino a raggiungere I due casi Principali I due casi Semplici Scusate Quindi ad un certo punto Questa roba qua Raggiungerà Fibonacci Di Ad esempio 1 Più Fibonacci Di 0 Ok? E quindi Nella prossima Chiamata ricorsiva Avrò queste due Return Qui Che mi faranno Di nuovo Come nel caso Di prima Srotolare Lo stack E tornare Al chiamante Di nuovo Questo è un caso In cui questa Return È fondamentale Per non perdersi Il risultato Ok? Quindi partiamo Da N 10 Ad esempio E ci fidiamo Che La nostra procedura Sarà in grado Di calcolare Fibonacci Di 9 Fibonacci Di 8 E poi Lo stesso Fibonacci Di 8 Si fiderà Che la procedura Ricorsiva Sarà in grado Di calcolare Fibonacci Di 7 Fibonacci Di 6 Dimmi Non ho capito Scusa Fibonacci Di 1 Vale 1 Fibonacci Di 0 Vale 0 Non riesco a capire Fibonacci Per definizione Questa è la definizione No? Per definizione Fibonacci Di 0 Vale 0 Noi possiamo anche Vedere la scritta Così Qui ho usato N più 1 Ma posso anche dire Che Fibonacci Di N È uguale Fibonacci Di N N-1 Più Fibonacci Di N-2 Siamo d'accordo? Sì Ok Quindi a un certo punto Io partirò da 10 Sottraggo E arriverò a un caso In cui Fibonacci Di N-1 Varrà 1 E Fibonacci Cioè che l'N Varrà 1 N-1 Fa 1 E N-2 Fa 0 Sì Eh no Perché Fibonacci Di 1 Vale 1 Ah Ok Ho capito Se tu No qui La consegna È diversa Noi vogliamo Calcolare L'ennesimo Numero Di Fibonacci Secondo La definizione Di Fibonacci Non secondo la posizione In un ipotetico Array Ok Quindi Fibonacci Di 1 Per definizione Vale 1 Che poi nel tuo array Sia Il secondo numero Questo A noi non interessa Noi vogliamo calcolarli Secondo La definizione Ok Allora Proviamo un po' A richiamare Questa funzione Print Fibonacci Di Che ne so 5 Fibonacci Di 5 Vale 5 Fibonacci Di 10 55 È giusto? Si direi di sì Fibonacci di 0 Vale 0 Fibonacci di 1 Vale 1 Allora Non so se qualcuno Di voi Ha provato A usare Dei numeri Più grandi Qui Qualcuno Ci ha provato? Proviamo un po' A dire Fibonacci Di 50 Ad esempio Eh Fibonacci Di 50 Come vedete Posso stare qui Anche un bel po' Ma Sembra che il mio programma Non giunga A terminazione Ok Vedete Il programma Sta ancora girando Ma non riesce a produrmi Un risultato Ok Perché questo? Allora In questo corso Non abbiamo Modo di andare Nel dettaglio Della complessità Dei vari Algoritmi Abbiamo detto Sicuramente la ricorsione In python È lenta Di natura Aggiungiamoci pure Che qui stiamo Lavorando su un tool Online Che è sicuramente Più lento Di un programma Sul nostro pc Che lavora in locale Su questo credo Siamo tutti d'accordo Ma non sono questi I due motivi principali Per cui Ad esempio Fibonacci di 50 Non giunge A conclusione Qualcuno di voi Senza guardare Le slide Ovviamente Sa intuire Perché questo programma Diventa molto lento Quando andiamo A incrementare Il numero È lento anche Per numeri piccoli Ma non ce ne accorgiamo Questo è relativo A python Il vostro compagno Dice perché Lo stack È limitato Questo può essere Una ragione Ma non è quella Principale In questo caso C'è proprio Un motivo Dovuto all'algoritmo Che abbiamo utilizzato Sarebbe lento Anche in c Ok Magari un po' più veloce Di questo Ma comunque lento Il vostro compagno Il vostro compagno dice Perché l'invocazione Di una funzione È più lenta Che iterare In un ciclo Questo può essere Vero È il primo motivo Che ho detto Che la ricorsione Di per sé È lenta Di sua natura Può essere lenta Ma non è il motivo Principale In questo caso Ad ogni richiamo della funzione Devo allocare delle variabili Vabbè Sì può essere Ma di nuovo Non è questo Il motivo principale Non è neanche lo stack Proprio Relativo all'algoritmo Che abbiamo usato Ok Forse il vostro compagno Ha intuito Vediamo di dirlo Non so se è quello Che intendevi tu Ma facciamo Questo semplice esercizio Supponiamo di dover calcolare Fibonacci di 5 No Che cosa succede Parto da 5 Dovrò calcolarmi Fibonacci di 3 Fibonacci di 4 Giusto I due numeri precedenti Esatto Come dice il vostro compagno Poi se scendiamo Nell'albero della ricorsione Per fibonacci di 3 Mi dovrò calcolare Fibonacci di 1 Fibonacci di 2 E a sua volta Per fibonacci di 2 Fibonacci di 0 Fibonacci di 1 Questa cosa va ripetuta Ovviamente anche Dall'altro lato Di questo grafo Anche per fibonacci di 4 No Dovrò fare lo stesso lavoro Come potete vedere Nel nostro grafo Che ci rappresenta Tutte le chiamate ricorsive Che facciamo Quando calcoliamo Fibonacci di 5 Ci sono ampie parti Di questo grafo Che sono replicate No Questo sotto albero qua È un albero Più che un grafo Questo sotto albero qua Fibonacci di 3 È lo stesso Di questo qua Giusto Quindi calcoliamo Più volte Delle cose Che potremmo calcolare Una volta sola Quindi Questo ci fa capire Che Non lo facciamo Se volete potete provare A farlo a casa Questo algoritmo È ampiamente migliorabile Possiamo fare Un algoritmo Sempre ricorsivo Ma molto più efficiente Evitando di calcolare Più volte Una cosa che abbiamo calcolato Già in precedenza Ok Se noi già solo Riuscissimo A non calcolare Due volte Fibonacci di 3 Vedete Quante chiamate ricorsive Risparmieremmo Ovviamente Più Il numero n Di partenza Cresce Più le parti in comune Saranno Tante E quindi Più volte Ripeteremo Cose che abbiamo Già fatto E ovviamente Questo incide Sulla Sulle performance Di questo Di questo algoritmo Ok Ripeto Non abbiamo Modo in questo corso Di andare nei dettagli Della complessità Di un algoritmo E In sede d'esame Se vi trovate davanti A un esercizio Che vi chiede Di sviluppare Un algoritmo Ricorsivo Non state lì A pensare Alla complessità Dell'algoritmo E Se potrebbe essere Migliorato Eccetera Non andiamo In quel dettaglio Lì però E' bene Saperlo Ok Abbiamo visto Due esercizi Abbastanza semplici Il primo Va bene Non chiamiamolo Neanche esercizio La somma Da 1 a 10 E poi Fibonacci In cui L'obiettivo Della ricorsione Era appunto Arrivare A un determinato Risultato Dividendo Il problema Principale In sottoproblemi Fino a quando Non raggiungo Il sottoproblema Banale E poi da lì Ritorno indietro Con le return Alla soluzione Cerchiamo di ampliare Un po' La nostra veduta E Arriveremo Agli anagrammi Quindi a un problema Invece di esplorazione No Qui invece La soluzione Era 1 E andavamo dritti Verso quella soluzione Quando il problema Si complica Ad esempio Nel caso di Esplorare Tutte le possibili Soluzioni Di Di un problema Dobbiamo iniziare A farci Delle domande Aggiuntive No Come possiamo Impostare La ricorsione E in particolare Che cosa Possiamo chiederci Che cosa rappresenta Il livello Di ogni chiamata Ricorsiva Ok E che cos'è Una soluzione Parziale E una completa D'accordo Nel caso Degli anagrammi Ad esempio Vi ho fatto Intuire Che un possibile Modo Di Esplorare Tutte le possibili Soluzioni E quella di Partire da una Stringa vuota E costruirla Mano a mano Aggiungendo Una lettera Per volta Ok Quella stringa Vuota In cui mano a mano Aggiungo Una Una lettera E una nostra Soluzione Parziale Del problema Quando è che Diventerà Completa Ad esempio Quando Conterrà Tutte le lettere Della parola Originale In qualunque Ordine Un anagramma Però quando Arrivo a riempire Quella stringa Con tutte le lettere Della mia parola Originale Sarò arrivato A una soluzione Completa Queste sono tutte Domande Che bisogna Farsi Prima Di impostare Il problema E poi Altre domande Da farsi Come posso Generare Tutte le soluzioni Di livello Più 1 A partire Dalla soluzione Che ho Nel livello Corrente Nel caso Degli anagrammi Sempre Ho Una soluzione Parziale Che contiene Delle lettere Supponiamo Due lettere Come faccio A costruire La soluzione Del livello Più 1 In questo caso Aggiungendo Un'altra lettera Però ovviamente Ogni problema Ha le sue peculiarità E quindi Magari non sarà Aggiungere una lettera Sarà fare Qualcos'altro Come faccio A riconoscere Se una soluzione Parziale È anche Completa Di nuovo Nel caso Degli anagrammi La soluzione Diventa La soluzione Parziale Diventa Completa Quando Ad esempio La sua lunghezza È uguale A quella Della parola Originaria Giusto? Se le due lunghezze Coincidono Vuol dire Che ho inserito Tutte le lettere Ad esempio Non so Se mi sono spiegato E come faccio Partire La ricorsione A livello Zero Ok Dopodiché Data Una soluzione Parziale Come posso Capire Se è valida Cioè Mi devo sempre Chiedere Ha ancora Senso Continuare Supponiamo Anagrammi Della parola Ciao Partiamo Dalla stringa Vuota Ci aggiungo La c Nella prima Casella E richiamo La ricorsione Nella chiamata Successiva Ha senso Riaggiungere La c No Perché di c Ce n'è solo Una Nella parola Originale Quindi Una soluzione Parziale Ipotetica Data Da c C È sicuramente Non valida Non ha senso Continuare Con quella Soluzione Lì Quindi Dobbiamo Anche Riuscire A capire Quando Una soluzione Parziale È valida Oppure No E se Ha senso Continuare Oppure No Poi ci sono Diversi approcci Potremmo pensare Di Costruire Solo Soluzioni Valide Ad esempio La c So che L'ho già Inserita Non la Inserisco Più Oppure Potremmo Dire No Arriviamo Comunque Fino In fondo E solo Al fondo Controllo Se è valida Oppure No E se è valida Me la tengo Se non è valida La scarto Questa è un'altra Possibile Soluzione E poi L'ultima Cosa Che cosa Devo fare Quando raggiungo Una soluzione Completa Nel caso Degli Anagrammi Direi che Me la metto Da parte Perché Perché A me Interessano Tutte Le soluzioni Giusto Nel caso Invece Ad esempio Di Un algoritmo Per un sistema Di navigazione Dove Devo Trovare Il miglior Percorso Dalla città A Alla città B In quel caso Non mi servono Tutte le soluzioni Ma solo La migliore Ad esempio La più corta A quel punto Io potrei Esplorare Tutte le varie Strade Che portano Dalla città A Alla città B Ma alla fine Il mio output Deve essere Solo Quella migliore Che ho visto Durante la mia Esplorazione Quindi Dipende Dal problema E poi Ovviamente Devo anche capire Che strutture dati Utilizzare Nel caso Degli anagrammi Stiamo parlando Di stringhe E credo Che ce la possiamo Cavare Con delle stringhe Al massimo Con delle liste Di caratteri Se parliamo Di percorsi Su una mappa E allora Lì le cose Si complicano Devo però Capire Che tipo Di strutture dati Posso E devo Utilizzare Tutto questo Per raggiungere Questo schema Che è forse Il più completo Che vediamo Che vediamo Oggi Questo schema Di un programma Ricorsivo Dove ovviamente Ogni pezzo Può esserci O non può esserci A seconda Del tipo Di problema Quindi Una funzione Ricorsiva Può avere Qualche operazione Che deve essere Eseguita Sempre A prescindere Dal livello A cui siamo Arrivati Può esserci Non può esserci La condizione Di terminazione Quella direi Che c'è sempre In modo esplicito Implicito Però comunque Ci deve essere Quindi Se termino Magari faccio qualcosa Ad esempio Negli anagrammi Se termino Vuol dire Ok Ho costruito Un anagramma Me lo metto Da parte Lo aggiungo Ad esempio Ad una lista Nel caso Di percorsi Su una mappa Dove voglio trovare Il più corto Ok Ho trovato Un percorso Magari Non lo metto Da parte Ma guardo Se è il migliore Che ho visto Fino a quel momento Se è il migliore Lo tengo Se non è il migliore Lo scarto Dipende Quindi Terminazione Faccio qualcosa Return Oppure Abbiamo Il caso In cui Non siamo arrivati Al fondo E quindi c'è La divisione Sotto problemi Quindi avremo Un qualche ciclo Direi O un for Un while Dipende La generazione Di una nuova Soluzione parziale Ci può essere Un filtro Dicevamo Ha senso Continuare Per la parola Ciao L'anagramma CC È promettente No Ok Non faccio La chiamata Ricorsiva E vado avanti Altrimenti Se il filtro È rispettato Richiamo La funzione Ricorsiva Dopo aver fatto La chiamata Ricorsiva Ci può essere Il backtracking Quindi Quando devo esplorare Percorsi Anagrammi Eccetera Il pattern È sempre Faccio un passo Faccio andare avanti La ricorsione Supponendo Di aver fatto Quel passo Che può essere Aggiungi una lettera Attraverso una strada Eccetera E poi Tolgo quel passo In modo tale Da poter esplorare Altri percorsi E questo ci porta All'ultimo Esercizio Che facciamo Insieme oggi Poi ci saranno Quelli del laboratorio Scrivere L'avrete già capito Un programma Ricorsivo Che data una parola Ci trovi Tutti i possibili Anagrammi Di quella parola Vabbè Dal punto di vista Matematico Questo significa Trovare tutte le n Fattoriali Per mutazioni Dei caratteri Inclusi Nella Nella parola Nelle slide Successive Avete Già E l'approccio Che vi ho già Descritto Più volte Avete questo approccio Descritto anche Graficamente No? L'idea è di partire Dalle lettere Ancora Dalle lettere Da considerare Che nel primo caso Sono tutte le lettere Presenti nella parola Dog In questo caso E avere una stringa Una lista Una struttura dati Vuota In cui Mano a mano Inseriamo una lettera Per volta Ok? Allora cosa facciamo? Al primo giro Ad esempio Potremmo Ciclare Sulle nostre lettere E aggiungerle Una per volta Nella nostra stringa Vuota Questo è il primo livello Della ricorsione Dove ovviamente La prima chiamata Che cosa farà? Prenderà la prima lettera E la metterà Nella prima casella E da qui L'albero Della ricorsione Si espanderà Giù Cercando Tutti gli anagrammi Che iniziano con D A un certo punto La ricorsione Terminerà In questo sotto albero Qui Tornerà indietro Risalirà Fino a qui Ed è qui Che noi avremo Backtracking Quindi tolgo la D E provo a mettere la O Ed esplorerò Tutto l'albero Di anagrammi Che iniziano con O Torneremo indietro A un certo punto Toglieremo la O Metteremo la G Questa cosa ovviamente Si ripete Per tutti gli step Ovviamente Arrivato qui A un certo punto Tornerò su Toglierò la G Toglierò la O E proverò con DG Eccetera Ok? Questo è già Una indicazione Forte su come Potete risolvere Questo esercizio Quindi Vi propongo Di farlo Sono le 10.52 Facciamo così Facciamo la pausa Perché è già un po' Che lavoriamo Un quarto d'ora Di pausa Poi ci ritroviamo insieme E Vi lascio un po' di tempo Per fare l'esercizio E poi proviamo A risolverlo Ok? Ok Allora Credo che La L'idea generale L'abbiate L'abbiate capita Quindi In sostanza Noi dovremmo avere Una stringa In questo caso Direi Perché stiamo parlando Di stringhe Vuota Che andiamo a riempire Con una lettera Per volta Quindi Sponiamo di avere Una funzione Anagrammi Che Riceverà Sicuramente Questa Struttura Dati In cui Andiamo a costruire Le nostre soluzioni Parziali Chiamiamola Parziale Una stringa Che da fuori Ci verrà passata Come vuota E noi mano a mano Andiamo a riempire E poi avremo Sicuramente I nostri caratteri No Chiamiamo la parola La nostra parola Su cui Vogliamo calcolare Gli anagrammi Questo sicuramente Allora 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 Al di là Della condizione Di terminazione Che andrà Come al solito Qua All'inizio Cerchiamo di strutturare Il caso base No Abbiamo detto Il caso base Può essere quello Di scorrere I caratteri Nella nostra parola Per esempio For ch In parola E provare Ad aggiungere Un carattere Per volta La nostra parziale E quindi dire Parziale È una stringa Ci posso concatenare Un carattere Più Uguale Ch All'inizio Sarà vuota Al primo step Conterrà la prima lettera Quindi Aggiungo Una lettera Faccio andare avanti La ricorsione Quindi dico Anagrammi Richiamo Anagrammi Passandogli La nuova parziale Che avrà Una lettera In più Giusto La mia parola Che non cambierà E la mia lista Che mi porto Dietro Ok Quindi Aggiungo Una lettera Richiamo E poi Abbiamo visto Prima Dobbiamo anche Avere il modo Di tornare Indietro Ed esplorare Nuovi percorsi In sostanza Cosa devo fare Devo Togliere CH Da parziale Giusto L'ho messo Ho provato Ora lo tolgo Come faccio Togliere parziale Devo togliere L'ultimo carattere Da una stringa Qual è il modo Più semplice Di farlo Con uno slice Perfetto Dove prendiamo Solo una parte Che è tutta la stringa Tranne l'ultimo Quindi dico Parziale Uguale Parziale Allora partiamo Da Zero Direi Quindi Dall'inizio E andiamo Fino a Ricordate che L'ultimo È esclusivo Se vogliamo Almeno non ci confondiamo Tanto Usiamo Lo slice Normale Quindi da sinistra A destra Possiamo fare L'en di parziale Meno Uno Ok Perché In un accesso Posizionale Questo sarebbe L'ultimo carattere Ma vi ricordo Che nello slice È esclusivo E quindi Prendiamo quello Prima Perfetto Ora Quali sono i problemi Qui Che cos'è che manca Al di là Della condizione Di terminazione Ok Il vostro compagno Dice di aggiungere Un anagramma In una lista Ma l'aggiunta Di un anagramma In una lista Va fatto Solo quando Siamo in una Condizione Di terminazione Giusto E quindi Quello Lo facciamo dopo C'è un'altra cosa Importante Che manca Supponiamoci Sia la parola Dog Ok Entriamo qua dentro Forci H In dog Quindi Il primo sarà Di Ok Aggiungiamo Di a parziale Richiamiamo Anagrammi Che di nuovo Rifarà Forci H In dog E quindi Aggiungerà Di nuovo La D Ok Aggiungerà Continuamente La D Perché non abbiamo Trovato il modo Di Dire A questa Funzione Ok Ma guarda Che la D L'hai già messa E' ora di passare Già alla O Ad esempio Sicuramente Serve un controllo Il vostro compagno Il vostro compagno Credo suggerisca Un qualcosa del genere If Boh Not Not Ch In Parziale Ok E se la parola Ha delle doppie Si Ok Il vostro compagno Suggerisce un'idea Più furba Non che la tua fosse stupida Per carità Però dice Perché non Rimuovere Direi Da parola I caratteri Che abbiamo già considerato E questo è quello che Intendevi Ok Se noi Fossimo in grado Di dire Ok Ho preso la D L'ho messa Se noi Fossimo in grado Di dire Alla successiva Chiamata Guarda che la D L'ho già considerata Concentrati solo su O G Risolveremmo il problema Giusto Quindi un'idea Potrebbe essere Quella di Aggiungere il carattere A parziale E al tempo stesso Toglierlo da parola In modo tale Che la prossima Chiamata ricorsiva In questo ciclo for Direttamente Consideri Già di sua natura I caratteri giusti Quelli ancora validi Ok Benissimo Come facciamo A rimuovere Ch Da parola Dimmi Con uno slice Sì Mi può stare bene Però come Nel senso Conosciamo La posizione DCH Non la sappiamo Per come è fatto Questo for Quindi che cosa Mettiamo nello slice Al momento È un po' Scuro Potremmo pensare Di dire Parola Punto Remove DCH Vi ricordo Che la remove Non lavora Per indice Ma per valore Cioè Va A rimuovere Da parola CH Sulla base Del suo contenuto Qual è il problema Sono sempre Le doppie Perché la remove Rimuove la prima Occorrenza O forse le rimuove Tutte Non mi ricordo Comunque sicuramente Non abbiamo la garanzia Che rimuova Il carattere giusto Nella posizione giusta Ok Quindi Dobbiamo trovare Il modo Di avere La posizione DCH In parola L'abbiamo visto Durante il corso Un po' Forse Di passaggio Ma c'è il modo Di scrivere Questo ciclo for In modo tale Da avere Sia il carattere Che la sua posizione Nella sequenza Qualcuno se lo ricorda? Scusami Il vostro compagno Dice un secondo for No Con la funzione Enumerate La funzione Enumerate Ci restituisce Due valori Infatti qui Prima della in Metto due variabili Dove La prima variabile Rappresenta La posizione L'indice Lo chiamo I E il secondo Valore La seconda variabile Rappresenta Il valore Quindi in questo caso Enumerate Parola Ci restituirà Zero D Uno O Due G Se la parola È dog Ok A questo punto Effettivamente Abbiamo Abbiamo Quello che ci serve Potremmo Potremmo Eliminare Il carattere CH Da parola Come facciamo? Sicuramente con uno slice Ma come? Perché questo carattere Non è detto che sia al fondo O all'inizio Potrebbe essere anche In mezzo Quindi in questo caso Era più facile Perché dobbiamo Eliminare Solo un elemento Che è al fondo Quindi prendiamo In un blocco Solo Ma In questo caso Se il CH È in mezzo Alla parola Sì Esatto Se questa lettera È in mezzo Alla parola Sì Quelle volte Dove La prima Lecce È la parola No Perché Perché tu Stai pensando Di cancellarla Definitivamente Ovviamente Se noi qui La cancelliamo Poi dobbiamo fare Anche backtracking Perché altrimenti Noi la stiamo Rimuovendo Anche per gli altri Alberi Quindi Di ricorsione Quindi Così come noi Mettiamo Proviamo E togliamo Per parziale Se andiamo A modificare La parola E poi Quando Finiamo La dobbiamo Rimettere a posto Per le chiamate successive Quindi non è un Cancella e basta Ovviamente Allora io potrei dire Che La mia Nuova parola Che è quella A cui voglio Togliere La lettera Che ho considerato Parola I Così Perché Così Però Supponiamo Che la lettera Sia in mezzo No Se vogliamo Eliminarla Dobbiamo Avere Prendere Prendere Due slice Quello che sta Prima del carattere E quello che sta Dopo Escludendo il carattere In mezzo Questa può essere Un'opzione Anzi L'unica opzione Quindi direi Che Partiamo da zero Ok In questo caso No Era giusto Lo stesso Se non scrivo Lo zero Lo zero C'è Di default Ok Quindi vado Da Fino alla posizione Prima del carattere E poi Prendo La parte Che rimane Che sarà Parola Di I più Uno Questa volta Siamo Nello start Quindi è Inclusivo Fino Alla fine E quindi Qui Come per lo zero Posso anche Non specificare Niente Se non dico Niente Vuol dire Vai fino Alla fine Quindi mi sono Costruito Una stringa A cui Ho tolto Il carattere Che ho considerato E dico Ad anagrammi Quindi alla prossima Chiamata ricorsiva Non basarti più Su tutta la parola Guarda solo I caratteri Che dobbiamo Ancora analizzare Quindi gli sto facendo Addirittura Un lavoro in più Ok Quindi Metto in parziale E tolgo Dai caratteri Da considerare E faccio andare avanti La ricorsione Quindi Questa ricorsione Esplorerà Un dato Albero Ricorsivo Prima o poi Ritornerà indietro A quel punto Cosa devo fare Devo rimettere Un po' le cose A posto Giusto Allora Sicuramente Tolgo Il carattere In parziale E qui Siamo d'accordo L'abbiamo fatto Prima Adesso Per nuova parola Devo rimettere Il carattere Che ho tolto Secondo voi C'è una differenza Tra queste due Qual è la differenza Sì esatto Credo che il vostro compagno Abbia intuito Qual è la differenza In un caso Stiamo modificando Direttamente La variabile Originale Quella che ci è stata Passata dall'esterno No E' sempre parziale Quindi stiamo sporcando Sempre quella Quindi se la sporchiamo Poi La dobbiamo rimettere A posto Per esplorare Altre vie Qui invece Stiamo definendo Una nuova Variabile Ok Nuova parola Quindi Quando Ritorneremo Qui Parola Sarà ancora Quella precedente Sì parola Sarà ancora Quella precedente Non l'abbiamo Sporcata E quindi non c'è il caso Di rimetterla a posto Sono due strategie Diverse Se sporchiamo La variabile Originale La dobbiamo poi Rimettere a posto Fare backtracking Se non la tocchiamo E costruiamo Nuove variabili Che esistono Solo per quella Determinata Chiamata A quel punto Il backtracking Non serve C'è implicitamente Se avessimo fatto Parola uguale Questa roba qui Allora qui Avremmo dovuto Anche Risistemare Parola Cosa che Diventava un po' Complicata A dire la verità Perché dovevamo andare A rimettere il carattere Nella posizione giusta Potrebbe essere Complicato E quindi È più comodo Fare così Così come Nulla ci vieta Di fare così Nuova parziale Uguale Parziale Più Ch Se io faccio Così E al posto Di parziale Passo Nuova parziale Il backtracking Ovviamente Non mi serve C'è implicitamente Era per mostrarvi Però Le varie possibilità Che abbiamo Torneremo Tornerei a questa versione Che Dimostra Due possibilità Quella in cui si sporca La variabile originale E quindi serve Il backtracking E quella in cui si crea Una nuova variabile E quindi non serve Il backtracking Però è importante Capire perché A questo punto Se questa è la nostra idea Quindi Di costruire Le nostre soluzioni Aggiungendo una lettera Per volta E contestualmente Togliere i caratteri Qual è la condizione Di determinazione Esatto Quando In realtà Nella funzione Si chiama sempre parola Quando arriviamo A una parola vuota Vuol dire che Ho tolto tutti i caratteri E non ne ho più Da considerare Quindi If Len Di parola Uguale Uguale a zero Cosa vuol dire Che In parziale Sicuramente C'è un anagramma Valido Per come ho fatto Il mio codice È valido Perché Io ho Tolto I caratteri Che non potevo più Aggiungere Quindi per costruzione Questo anagramma È valido E che cosa dovrò fare? Beh Lista Punto Append Parziale Questa parziale È diventata completa Me la salvo Nella mia lista Di anagrammi Ok Proprio perché Qui È un problema Di esplorazione Di tutte le possibili Soluzioni Vedete che qui Nella condizione Di terminazione Non posso mettere Una return Cioè Non ho niente Da ritornare Devo andare avanti No? E quindi Questo è il caso In cui La condizione Di terminazione È strutturata Come una If Else Cioè Se sono arrivato Al fondo Appendo Altrimenti Vado avanti Ok? In altri casi In cui ad esempio Quando arriviamo A una soluzione Completa Ci basta E qui Magari abbiamo Una return In questo caso No Perché Se raggiungo La fine Bene Altrimenti Vado avanti Eventualmente Potreste anche Trovare Questo pattern Scritto In questo modo Ok? Quindi Appendo La mia lista Ho finito Faccio una return Che però Non ritorna Niente Al chiamante Infatti vedete Una return Senza niente Sta solo a significare Ok non fare più For Chiudi Chiudi La funzione Sono equivalenti O return Finisce la funzione Ritorno a chi Mi ha chiamato Oppure La else Che Che fa in sostanza Lo stesso lavoro Perché Se non entro qui Cioè Se entro qui dentro Non entrerò più qui E quindi Finirà la funzione Implicitamente È la stessa cosa Sì qui ho sbagliato Il nome Anagrammi A questo punto Che cosa posso Ho finito Direi E a questo punto Posso calcolarmi Questi anagrammi Dal programma principale Dovrò Impostare i parametri Quindi la mia parziale Partirà vuota Quindi mettiamo una stringa Vuota Doppi apici La mia parola Ce l'ho La possiamo anche Mettere direttamente qui Dog Ad esempio E poi la mia lista Di anagrammi Possiamo ad esempio Definirci una lista Vuota Chiamiamola risultato Ok E Do Questa lista vuota Impasto Alla mia Funzione ricorsiva Che si occuperà Di Riempirla Mano a mano Con i miei vari Anagrammi E poi posso stampare Il risultato Vediamo un po' Ok Sembra Funzionare Ho 6 Anagrammi Dubbi Domande Vi faccio ancora notare Un problema Di questa soluzione Che cosa succede Se io qui Ho Una parola Con delle doppie Per costruzione L'algoritmo Dovrebbe funzionare Ma Semanticamente Non funziona Perché se io qui Avessi Facciamo sempre Un Una parola Con tre Lettere Che così è più facile Da visualizzare D DG Ad esempio Non ha senso Ma è solo per farvi vedere Che cosa succede Vedete Abbiamo sempre 6 Anagrammi In cui però In questo caso Abbiamo dei doppioni Abbiamo DDG qua E DDG qua Ad esempio O DGD E DGD In realtà Dal punto di vista Della lingua Italiana Non hanno molto senso Questi Questi doppioni No Perché Perché Questo programma Non distingue Il fatto Considera Le due lettere D e D Come diverse Ovviamente Perché sono in due Posizioni diverse Della nostra parola Ok Quindi in sostanza Per questo motivo Abbiamo dei doppioni Qual è il modo più semplice Che vi viene in mente Per eliminare Questi doppioni Senza Esatto Bravissimi Quindi al posto Di una lista Set No Ah ok Il set Ovviamente Non ha La Append Ma La Add Quindi dobbiamo Fare questa Piccola Modifica In questo caso Abbiamo solo Tre Anagrammi Che sono quelli Che vogliamo calcolare No? Quelli univoci Ecco Ovviamente se Usiamo la parola dog Nulla cambia Siamo sempre in presenza Siamo sempre in presenza Di 6 Anagrammi Perché tutte le lettere Sono diverse Ok Questo era l'ultimo esempio Che volevo fare Vi fa vedere Un'applicazione Un po' Diversa Dal solito O Delle applicazioni Che probabilmente Avete visto anche Negli scorsi Corsi Della ricorsione Quindi questo caso D'uso particolare In cui Risolviamo Un problema Cercando di esplorare Tutte le possibili Alternative No? Potrebbe applicarsi A un casino di cose A Boh Risolvere Una partita di scacchi Calcolare Il calendario Trovare Percorsi migliori Su una mappa Ora La differenza sta Che Abbiamo Come detto prima Due possibilità Una è Trovare Tutte le soluzioni Ad esempio Che ne so Tutte le possibili Combinazioni Di squadre Per trovare Un calendario Per la serie A O tutti gli anagrammi Come in questo caso Oppure Potremmo essere interessati A trovare Solo la soluzione migliore Trovare Il percorso migliore Su una mappa Cambia poco Cosa cambia? Cambia qui Al posto di Salvarmi sempre La soluzione Me la salvo solo Se è la migliore Che ho visto Fino a quel momento Ok? Però poi La struttura base Rimane sempre la stessa Va bene Se non avete domande L'abbiamo tirata un po' Per le lunghe Ma ovviamente Era l'argomento Più difficile Abbiamo ancora un po' Di tempo Per provare A fare L'ultimo laboratorio Che non è questo Ma è Questo Dove abbiamo Quattro esercizi Ok? Di cui In ordine di difficoltà Direi Di cui L'ultimo è veramente Tanto più difficile Rispetto a quelli Che abbiamo fatto Quindi Ve lo lascio lì Come Possibilità Non vi darò mai Un esercizio Così come l'ultimo All'esame Ovviamente Ok? Però Sono tutti Esercizi Da Da svolgere In modo ricorsivo Il primo ad esempio È molto simile Al Fibonacci Calcolare il fattoriale E poi ne avete altri Più simili Tipo L'X expansion Qua Più simili agli anagrammi Invece Ok? Va bene Buon lavoro Sono qui Se avete domande Anche su ovviamente Esercizi passati Lezioni passate Sono ben felice Di rispondere